Benvenuti amici di Android Bloggy. Dentro questo grande scatolone c'è il Samsung Galaxy Note Pro. Sarà decisamente un unboxing più impegnativo del solito. Andiamo quindi a vedere che cosa contiene questa scatola che quasi non entra nell'inquadratura della telecamera. Facciamo uscire scorrendo da questo lato le scatole che comprendono la scatola del tablet vera propria e quella della tastiera. Ma torniamo un secondo allo scatolone di prima. Vi faccio vedere come Samsung pone l'accento su questa dotazione che praticamente è un valore di contenuti extra pari a 500€ per quanto riguarda abbonamenti al Corriere, abbonamenti alla Gazetta, spazio su Dropbox, giochi in regalo sul Samsung App e abbonamenti cinema e serie TV su Premium Play, eccetera, eccetera, eccetera. Passiamo adesso alle altre scatole. Vi faccio vedere prima di tutto la tastiera. Questa tastiera è progettata da Zag per Samsung Galaxy Note Pro. È una tastiera Bluetooth che se riusciamo ad estrarla ve la mostro nelle sue dimensioni. Qua il lato sinistro, lato superiore, lato destro con presa micro USB per la ricarica. Non vi sono collegamenti per i tablet fisici ma solo una fessura per poterlo incastrare. Qui il tasto di accensione e spegnimento è quello per fare il pairing con il tablet. La tastiera ha i tasti ad isola ma manca di un touchpad. Adesso andiamo al pezzo forte, cioè alla confezione del Galaxy Note Pro. Apriamo la confezione qui lateralmente, facciamo scorrere e troviamo ovviamente il dispositivo dalle dimensioni davvero importanti. Quindi solleviamolo un attimo, vi faccio vedere come nella confezione siano presenti la classica manualistica rapida e il caricatore con plug USB condiviso da 2A. Abbiamo poi anche il cavo dati, null'altro neanche le cuffie auricolari, visto il prezzo forse potevano starci. Prendiamo ora in mano il tablet e vi parlo un pochettino di dimensioni. Dimensioni che sono 295.6 x 204 x 7.9 mm di spessore, per un peso di ben 753 grammi. Andiamo a vedere i vari lati del dispositivo. Lato sinistro con la prima delle due casse stereo e il jack per le cupie da 3,5 mm. Lato superiore che vede il tasto di accensione e spegnimento blocco sblocco, bilanciare del volume, microfono principale e porta infrarossi per l'uso come telecomando. Lato destro invece che vede l'alloggiamento per la S-Pen, eccola qui che ve la faccio vedere un attimo, la seconda cassa stereo, la presa micro USB 3.0, lo slot di espansione micro SD e lo slot per la SIM, in quanto questo tablet nella versione italiana è equipaggiato con connettività LTE categoria 4 e HSPA+. Vi parlo poi del lato anteriore che vede la camera da 2 megapixel con il sensore di luminosità. Sotto i due tasti soft touch caratteristici di Samsung è il tasto fisico home. Posteriormente andiamo a ruotarlo, troviamo la camera principale da ben 8 megapixel con il flash LED e l'autofocus, la classica finitura gommata che caratterizza tutti i tablet Samsung provati ultimamente. Parliamo di batteria che si trova qua sotto, la batteria da ben 9500 mAh. Intanto che lo accendiamo, vi parlo delle altre caratteristiche hardware, a muovere il tablet abbiamo un processore Snapdragon 800 quad core CRITE affiancato a 3 GB di RAM. La memoria interna, come abbiamo visto, è espandibile, è comunque di 32 GB con una buona parte occupati dal sistema. Per quanto riguarda il resto della connettività abbiamo il Wi-Fi A, B, G, N, A, C, dual band, Bluetooth, GPS, poi accelerometro, magnetometro, giroscopio e come detto il sensore di luminosità. Ma adesso che è acceso vi faccio vedere questo splendido display, display con risoluzione 2560x1600 pixel di diagonale 12.2 pollici per una densità di pixel di 247 ppi. Quindi un prodotto che fatichiamo a piazzarlo nella categoria tablet e che non vediamo l'ora comunque di provarlo in tutti i suoi aspetti. Per l'unboxing è tutto, un saluto da Alessia Cinabro per androidblog.it